Cari pellegrini, prendo spunto da due fatti che hanno riguardato due vescovi. Ovviamente questi fatti a cui noi alludiamo sono fatti che si verificano molto spesso e molto frequentemente ai noi nella Chiesa cattolica. Il primo fatto riguarda il Vescovo di Berlino, quale Vescovo di Berlino ha dato la possibilità, ha dato libertà ai sacerdoti della sua diocesi di eventualmente benedire coppie di fatto e anche coppie omosessuali. Dicendo che lui non si esprime al riguardo da questa libertà e nello stesso tempo coloro i quali, cioè i sacerdoti che dovessero far questo, ma in realtà già lo fanno, non incorrerebbero in nessuna sanzione. Ovviamente qui il Vescovo di Berlino va esplicitamente contro una decisione recente della congregazione per la dottrina della fede. La motivazione che il Vescovo di Berlino ha dato è una motivazione di ordine sociologico, cioè ha fatto capire dal momento che ormai è una prassi abbastanza diffusa quella da parte di sacerdoti della diocesi di Berlino di benedire coppie omosessuali o coppie di fatto, allora io prendo atto di questo. Ora capite benissimo che un Vescovo non può farsi orientare, farsi determinare da elementi sociologici. Il Vescovo è depositario di quello che è la verità cattolica, deve costudire la verità cattolica e deve proteggere in quanto pastore il gregge dai lupi e dall'errore. Non può il Vescovo semplicente fare riferimento a dati di ordine sociologico. Anche perché la verità, noi sappiamo bene, e dovrebbe essere anche nella logica delle cose, la verità non è data dal numero, ma la verità trova la sua legittimazione nella verità stessa. Se noi dovessimo orientarci e dire che la verità è giudicata dal numero, allora anche il nostro Signore Gesù Cristo, davanti al pretorio e davanti a Pilato, laddove la maggioranza disse Barabba, Barabba, piuttosto che Gesù Gesù, capite bene, allora in quel caso dovremmo dire che la verità stava dalla parte di chi voleva libero, Barabba, piuttosto che il nostro Signore Gesù Cristo. Ma qui stiamo all'ABC, diciamo francamente, siamo all'ABC e purtroppo. L'altro caso a cui volevo fare riferimento è il caso relativo a un Vescovo brasiliano, il quale ha dato la comunione ad un musulmano, il quale musulmano non è che si è presentato lì, diciamo, in incognito, è una persona in vista del luogo, amico anche del Vescovo, sarebbe anche una persona, e non mettiamo in dubbio questo, rispettosa nei confronti della Chiesa Cattolica, tanto è vero che poi dopo si è dato anche questa giustificazione, però il Vescovo, sapendo che colui che stava ricevendo l'Eucaristia o chiedeva di ricevere l'Eucaristia era un musulmano, per giunta anche guida della comunità islamica di quel posto, ebbene il Vescovo ha concesso l'Eucaristia. Capite bene che questi due fatti, che sono, diciamo, legati proprio a livello temporale, nel senso che sono accaduti nel giro di pochi giorni, ma Tony Peter non sono fatti rari, ma sono fatti purtroppo specchio di una situazione molto diffusa, bene, questi fatti ci fanno capire che cosa? Che noi stiamo in una situazione che è una situazione di gravissima emergenza, è una situazione eccezionale a livello negativo che non possiamo mettere in discussione. Se mettiamo in discussione questo fatto, significa che non riusciamo ad essere attenti a ciò che effettivamente sta avvenendo. Ed ecco perché dobbiamo tenere presente una cosa, che la crisi che adesso sta patendo la Chiesa Cattolica è veramente una crisi unica, unica nel corso della storia. Perché tutte le crisi, e la Chiesa sicuramente ne ha subite tantissime, anche di molte molto gravi, ne subirà anche altre in futuro, tutte le crisi che si sono avute in passato erano crisi prevalentemente di ordine disciplinarie, ma non di ordine dottrinale. E fondamentalmente su certe cose, su certe cose vedi per esempio verità di ordine morale, oppure verità di ordine anche ecclesiologico per quanto riguarda poi la salvezza delle anime, eccetera. Alla fine, malgrado la Chiesa sia stata sempre minacciata da gravi eresie, ebbene su queste cose si convergeva. Oggi invece abbiamo proprio una crisi che è profondamente dottrinale, dove per esempio viene messo in discussione l'esclusivismo salvifico di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi l'esclusivismo salvifico di appartenere alla Chiesa, quindi la necessità di appartenere alla Chiesa Cattolica, o addirittura, per quanto riguarda il comportamento morale, anche per esempio il fatto che l'amore, e quindi diciamo l'unione coniugale, non debba essere necessariamente tra un uomo e una donna. Ora, se questo non è una situazione eccezionale, non è una situazione di crisi e di emergenza totale, completa, ditemi voi che cosa è. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.